eccoci qui amici del convento di Lonato siamo rimasti affascinati da questa ragazza chiedendoci soprattutto intanto arrivano giustamente anche le amiche allora allora siamo a carnevale no 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 e questo è già una buona notizia come ti chiami? Marisa Marisa bello bello Marisa da dove vieni? Brescia Marisa la Brescia Marisa la Brescia la potete conoscere? La conoscete la conoscono allora Marisa come mai intanto sei vestita così è una bellissima naturale naturale l'avevamo capito anche i baffi no? Sì anche i baffi ok no il resto così avevo voglia di cambiare ho provato il look alternativo bello bello molto originale quindi hai preso le prime cose che hai trovato nell'armadio? Sì esatto ti capita spesso di vestirti così? Non ho capito ti capita spesso di vestirti così? Ultimamente sì bene ci piace mi piace questa tua personalità eccentrica cosa vesteggi? La moglie la moglie bello bello allora cosa vesteggi questa sera qui al convento? Patrimonio con chi chi è chi è il fortunato? Con quella figa che sta entrando ah sì sta arrivando sta arrivando allora brevissimo la conosceremo quando vi sposerete? 8 giugno 8 giugno fantastico vuoi dire qualcosa intanto che arriva puoi anticipare qualcosa alle telecamere un saluto un pensiero d'amore? Chiedo scusa ai miei genitori ci piace ci piace ma sarà anche il tuo vestito di nozze questo? Sì magari ne cambia la camicia sì che magari un po' sudatina a vista la sera ok ti auguriamo buon divertimento allora ti auguriamo una buona serata e ciao dal convento grazie